Signori, signori, voglio fare una cosa? Ah, e tu hai già fatto all'inizio, però faccio di nuovo. Alla tercera, all'ordinevo il pianoforte. Abbiamo, tu sei romagnolo, non sei trentino? Ah, ok, ok. Romagnolo, cavolo! Mister Mekko Frivi! All'ordinevo il pianoforte. All'ordinevo, dove sei? Tu sei romagnolo? Bolognese? Veramente? Sei andata a Bologna? Credo che ero in dialetto. Siamo avuto l'avete. Ah, questa è un mccante, cavolo. Mister Mekko Frivi! Mister Mekko Frivi! Alla batteria! e quando avevo tre anni i miei genitori avevano geniale idee di andare in california e vissuto sono venuto qua dove sono da tanti anni, 33 anni a Bologna, due anni a Modena, un anno a Modigliana sì, ho vissuto a Modigliana dei genitori di Gramo, mi hanno trattato, è una storia un po' complicata e da quattro anni sono a Trento, dove molto probabilmente resto per il resto dei miei giorni no, ma mi piace molto, è un posto molto tranquillo, vedo fuori in montagna, vedo in montagna, è tranquillo un californiano cioccolatino a Trento, forse non ci sono altri, ho una specie di Monomoglio grazie grazie